O-O-O Vieni, vieni un attimo raga Vieni una telefonata Pronto? Ehi ciao, è arrivato un paio di occhiali Vorrebbero che tu ci facessi un video Va bene, grazie, ciao ciao Ok ragazzi Firmo mi ha inviato un paio di occhiali E vogliono che io ci faccia un video Ma Come si fa un video Su degli occhiali? Sei stufo di non riconoscere le persone per strada Quando ti salutano? Sei stufo di andare a sbattere costantemente Se ogni cosa ti capiti davanti? Sei stufo di rischiare la vita cucinando oggetti non commestibili? Nooo Sei stufo di confondere la persona che ami per tuo cugino? Allora questi nuovissimi occhiali Targatti Firmo sono perfetti per te Inizia a vedere il mondo da un'altra prospettiva Con questi occhiali Potrai finalmente riconoscere i tuoi amici per strada Potrai mangiare i tuoi cibi preferiti senza rischiare la morte Potrai essere il più figo della zona E inoltre potrai difendere i tuoi occhi dal vento Dagli schiaffi Dalla cattiveria della cipolla E soprattutto dai getti d'acqua Ti innamorerai al punto di indossarli anche per andare a dormire Diventerete i migliori amici e passerete un sacco di momenti insieme Li amerai Compre nuovi occhiali Firmo Occhio a non farteli scappare Wow Wow Però così in effetti potrebbe anche funzionare Già Bene ragazzi questo video finisce qui Grazie mille Firmo per avermi inviato questo paio di occhiali Ci sta Lo indosserò probabilmente quando devo essere tipo più elegante Non so voi che ne dite mi stanno bene? Fatemi sapere se anche voi indossate gli occhiali Se li avete mai indossati oppure se vi piacerebbe indossarli Con un commentino qua sotto Vi ricordo di lasciare un pollice in su questo video Ed iscrivervi al canale per non perdervi i nuovi Grazie per aver guardato Alla prossima Bella Ciao